un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su castle clash oggi siamo con l'account di destroyed war ragazzi che è anche uno dei primissimi iscritti del canale quindi lo saluto e lo ringrazio per questo video che mi fa fare oggi dove ci andiamo a rollare 41.000 gem ragazzi ovviamente stiamo cercando anubis e ronin che sono gli ultimi due eroi usciti e in più diversi doppioni che gli sono utili per le varie evoluzioni infatti come vediamo non tutti sono seconda evoluzione quindi servono da quello che so anche molti doppioni di golem eccetera quindi direi subito di andare a cominciare inizierei subito con un 450 un bel 450 ragazzi mai una gioia al 450 vediamo un po 450 di nuovo green find ragazzi non so se me lo aveva chiesto un attimo e con questo sono ben tre green find quindi si può fare evoluzione gratis e possiamo continuare allora 450 soltanto campione gelatinoso ragazzi licantropo assassino linfa andiamo il 450 barba bianca ragazzi non riesco a droppare roni ne è incredibile continuiamo chissà se gli serviva barba con questo sono tre barba quindi magari ci può fare evo 2 infatti evo 1 perfetto un altro doppione utile continuiamo con 450 ragazzi lady lio lady lio lady lio niente ronin e niente anubis ragazzi attenzione al triplone confido questa volta dai dai deve uscire non è possibile tutte queste gemme dai deve uscire questa volta 450 niente da fare ragazzi il carnefice i demoni come se non ci fosse un domani devono gli acci linfa sciamano lo voglio dal singolo lo voglio dal singolo reggina arpia reggina arpia è il triplone soltanto blu ragazzi 33k gems ciclope giù di ciclopi ragazzi dai anubis 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 e con questo triplone dove il cecchino ronin è lì e invece campione gelatinoso maledizione ragazzi reggina arpia allora adesso mi devi spiegare come è possibile che con 50 eroi leggendari va per due volte di fila a prendere reggina arpia sempre reggina arpia anche ieri godzilla di neve godzilla di puzze neve ragazzi dov'è ronin dov'è anubis ragazzi cerchiamolo un po' deve essere qui da qualche parte in questo triplone invece no invece no strega del gelo ragazzi stanno uscendo una marea di verdi quindi attenzione al prossimo triplone perché potrebbe essere quello decisivo e invece no un altro triplone ancora un altro ragazzi deve uscire ancora un altro niente da fare ragazzi niente da fare vuoi darmela dal singolo allora dai singolo singolo panda dai ronin una gioia invece dracula dracula che mi pare di averlo visto evo 2 uno dei pochi evo 2 va bene dai va bene devi uscire 26k gems 4 e 50 dai anubis si cazzo si anubis almeno uno finalmente ragazzi l'ho trovato soltanto il primo giorno in un account da 150k e mai più almeno anubis ragazzi gol finalmente uno di questi due eroi che riesco a droppare top anubis ragazzi top veramente felice per the straight world che gli sono riuscito a trovare questo eroe ma adesso anche per la mia gioia personale dato che anubis l'abbiamo visto vorrei un attimo vedere ronin in questo rolling uscire fuori magari in questo triplone aumentiamo la capacità slot dai ci sta tutto ci sta tutto andiamo a tirare fuori anubis ragazzi dalla carta utilizziamo confermi l'utilizzo di anubis direi di sì ed eccolo qua ragazzi anubis droppato con talento spargimento di sangue 3 e ristabilisce il 3 per cento che per lui dai alla fine poteva andare anche peggio anche se su anubis ragazzi ci si può mettere quasi tutto tranne resurrezione in pratica quasi tutto ok mettiamo il lucchettino simbolico e gli vado anche a sacrificare tutte queste cose per fargli salire la skill ovviamente ok skill quasi a 4 e possiamo proseguire il roll vediamo un po se riusciamo a trovare ragazzi anche ronin con una mega sculata epocale vediamo il triplone niente da fare ragazzi ciclope campione gelatinoso candy cane candy cane attenzione candy cane ragazzi i brividi 24k è come il sentore che ronin può uscire ragazzi può uscire può farci questa sorpresa campione gelatinoso dai panda che anche se c'è la tua anubis l'ambizione è sempre altissima vogliamo prenderli tutti mi ha detto manca anche michael che anche quello fortissimo un colpaccio se lo troviamo invece ninja invece ninja 450 e niente da fare carnefice panda linfa regina ragazzi attenzione bam orco della rovina orco della rovina non è la rovina di oggi ma vediamo un po se ronin sbuca fuori dai sai che sappiamo che puoi farlo lo sappiamo che puoi farlo in questo triplone niente da fare ragazzi 18k un altro triplone un altro triplone ancora un altro niente ragazzi niente allora andiamo qualche singolo andiamo qualche singolo vediamo vediamo il predone triplone niente ragazzi angelo attenzione cupido cupido soltanto un cupido dai ronin dai ronin 450 vai campione gelatinoso attenzione attenzione predone intanto vediamo a 10 mila se il caso di rollare talenti oppure proseguire con il rolling eroi siamo a 14k vediamo un po il triplone soltanto una gelatina dai facci questo regalo facci questo regalo con questo triplone no niente da fare 150 triplone ragazzi dopo questo annubi su un po la situazione andrà scendendo rodolfo rodolfo mi pare lo abbia già rodolfo si rodolfo c'è ma quasi sicuramente una copia utile per l'evoluzione vediamo un po qualche altra gem attenzione 10 mila 700 uuuh soltanto verdi allora prossimo 450 ragazzi vediamo un po speriamo esca ragazzi speriamo esca due verdi un viola uno strano abbinamento vediamo dai ti prego ronin esci fuori esci fuori dai 30 euro no 30 no non è lui non è lui ma ci siamo quasi ragazzi golem golem gli serviva gli serviva copia per evo doveva fare evo e non voleva usare 60 mila frammenti quindi ottimissimo golem vediamo un po mancano gli slot ok siamo riusciti a portare la skill quasi a 5 ad annubis ultimissimi roll ragazzi ultimissimi siamo a 9 mila gems vai sorprendici sorprendici demone dei ghiacci linfa atlanticulo soltanto un atlanticulo 4 e 50 due tecnici ragazzi si sta scompigliando stanno uscendo un sacco di verdi un sacco di verdi quindi dai sappiamo lo sappiamo ronin che sei dietro una di queste caselle guardate quanti verdi ragazzi quanti verdi dai predone 4 e 50 orco della rovina ragazzi ma come è possibile orco della rovina un altro un altro dai angelo angelo panda 4 e 50 niente da fare 150 attenzione ultimissimi roll 4000 gems triplone ragazzi niente da fare un altro triplone niente da fare un altro gems e quindi dai queste 3000 gems ci vuole il miracolo ragazzi il miracolo vediamo un po' se esce 2600 boom niente da fare tripla gems tripla linfa di cristallo ragazzi attenzione attenzione carico il dito carico il dito per ronin eccolo lady lio lady lio ragazzi forse ha fatto anche un doppio triplo però in quello prima sono usciti blu sono usciti e quindi 1300 gems che cos'altro fare se non un ultimo triplone eccolo qui vai ragazzi anche un altro ci sta direi eccolo boom aries ragazzi aries 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 però però ronin ragazzi non è voluto uscire ma abbiamo trovato anubis quindi vero un eroe pazzesco sono felicissimo di essere riuscito a dropparlo anche se non è praticamente merito mio gli eroi escono da soli e quindi adesso prima di concludere ci andiamo a fare gli eventi ragazzi scopri il tesoro spendi 2000 gemme e andiamo un po' a vedere quali quali sorprese ci rivelerà oggi ragazzi questi scrignini aperti come ormai saprete voi che mi seguite da tanto una valanga e non sono mai riuscito a trovare un'elettrica iniziamo subito con la prima vai go 900 distintivi inutili 1200 distintivi ragazzi triste 55 frammenti inutilissimi proviamo il 2 1200 distintivi la tristezza 55 frammenti dai almeno qualche gemma 10 meriti che tristezza davvero ragazzi non esce niente da questi scrigni 10 meriti sono proprio la beffa se ci scriveva lo scrigno è vuoto era meglio inutilissimi 40 frammenti ragazzi come potete vedere vediamo stupici smentiscimi gioco smentiscimi smentiscimi che ti sto prendendo a parola che non esce niente fammi droppare l'elettrica fammi droppare il michael ma quando mai ragazzi 900 distintivi che proprio che storia questa non escono ragazzi è solo una pia illusione quella di riuscire a trovare qualcosa da questi scrigni perché è proprio impossibile impossibile ragazzi neanche fosse un non so cosa cioè non si trovano 20 cioè 20 scrigni sono anche tanti sono anche tanti che si aggiungono questi 20 scrigni si aggiungono si sommano alla moltitudine di scrigni che ho aperto grazie a voi che mi fate fare questi video e quindi ho l'opportunità di raccogliere molte di queste informazioni ragazzi questi scrigni non esce una sega di nulla quindi ci ritiriamo tutti quanti questi premi che ci ha dato e che cosa altro possiamo dire se non ringraziare destroyed world per avermi fatto fare questo video sono felicissimo per lui per questo annubis che si potrà portare su annubis ragazzi eroe molto molto forte il ron ancora latita non vuole uscire fuori ancora non si fa trovare in questi roll che mi fate fare quindi vi invito a lasciare un bel like un commento fatemi sapere che ne pensate io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao